Siamo partiti bene e in più sta andando molto bene anche se il tempo non ce lo permette. Il target di Ostuni si è alzato abbastanza. Quello della settimana ridosso di Ferragosto e comunque del periodo centrale dell'alta stagione, soprattutto per le strutture di target medio-alto, è un dato tradizionalmente positivo in una località come Ostuni. È pienone, lo documentano le immagini, ma il calo, un vero tonfo, c'è stato a luglio, addirittura un meno 6% causa maltempo. Le strutture ricettive della città bianca guardano con interesse ai mesi autunnali invece e al turismo sportivo internazionale. Settembre, ottobre, fino a metà novembre c'è un incremento del 15% rispetto allo scorso anno, dettato dall'incoming internazionale. Non arrivano i tanti visitatori, né interferiscono col lavoro degli operatori turistici o con il servizio offerto, gli echi delle fibrillazioni che nervosiscono il clima a Palazzo di Città, con il neosindaco alle prese con gli scricchioli di una fragile maggioranza. È un clima turistico un pochettino a rilento, ma credo che sia derivato anche dalle condizioni meteorologiche che non sono state delle migliori. Però Ostuni non ci possiamo lamentare in particolar modo perché c'è un po' di gente in giro. E a chi storce il naso sulla qualità di un cartellone di eventi messo su in poco tempo, questa giunta governa da appena tre mesi, il primo cittadino risponde così. Abbiamo ottemperato, tra virgolette, tutti gli impegni più importanti. Tra tutti la diciottesima edizione di Un'Emozione chiamata Libro e il concerto di Renzo Arbore, il 17.